Hey Warriors, wassame, mi sono Sassanio e noi siamo nuovamente qui per un nuovo ed entusiasmantissimo video di un po' dai Questa volta su Rise, Son of Rome per il settimo capito Siamo quasi arrivati alla fine e stiamo al 10% della Pax Romana Settimo capito? E dato che abbiamo una cosa come 115.000 punti da spendere Direi di andarci a prendere qualcosina, adesso io non so Tecnicamente dove prendere questo e questo E poi ne abbiamo altre cinque, wow, ne abbiamo veramente un fottio Quindi, tipo, prenderei queste e starei bene così Più o meno Ma sì, sì, ok, va bene così Ragazzi, oh giusto, eravamo al fosso di Elm Oh, Gimli, te lo sai Gimli No, 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 che non te lo faccio mai Ok, qualcun altro Mamma, mamma Ti spezzo Le braccia Ah no, ho sbagliato Mamma mia Ok Arcieri Arcieri Perfetto così Via E no, liscio, chiaro Questo qui Cazzarola Soldati Dai No Regà Cazzo Oh Mamma mia Che schivate Cioè, sul serio Guarda quanti Arcieri Direi di scoccare Forse Se ce la fate Ecco, fatemi questo favore Aia Dai, buono Cazzo Dai Dai, Arce Dai, 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 dai Che butto ciò ste scale Forza Forza E vai giù tu Dove Dove Corri di andare Con quella scala Mamma mia Ceri Che fatica Ci stanno altre scale Oh, dall'altra parte Oh Mamma mia Ma che devo fare Ma nessuno di voi Siete tutti talmente Anticappati Che Non riuscite a buttarci una scala Cazzo Dai Ma Ve l'ho stata guardata Sul serio questo Mamma mia Oh Non provo a parare più Eh Apro la carotide E Altri? I don't know Vai sempre con questi Dai Mamma mia Santissima Scale Ok Via Azz Beh Via Dai 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 Mamma mia Sono già arrivati i ciccioni Arcieri Arcieri Attaccate Arcieri Ok Grazie Grazie Gentilissimi Mille grazie Arcieri Però Se mi Faceste il santo favore Di buttare le giuste scale Magari Non dovreste combattere Contro mille Mille Barbari Mamma mia Andatevene Affan Cuore Ma ci stanno scale Ah Ah no Eccole Quindi Via una Ciao Ciao pure a voi Neh Uh No No Guarda come rotolo Guarda come rotolo Guarda come rotolo Con Il Frac Oh Caccio Mamma mia Arcieri Arcieri Fate qualcosa Cortesemente Rendetevi utili Ancora E basta Ma quanti Cazzo Siete Arcieri Dai 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 Neh Lo stanno L'arte Oh Fermi Fermi T'ho visto A te No No Via Neh Guarda come rotolo Uh Cazzo Mamma mia Arcieri Arcieri Cristo Santo Che Buscio Di Culo Ah Ok Lug Lug Signori Abbiamo risolto Il problema Di tutti Sì 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 Come te pare Siamo qui Ok Ok Devo arrivare alle banchine Esiste un'altra via Sì Potete tagliare per i bassi fondi Eh Che so Eh Dove stanno i bassi Qua Qui Mi spiace per il suo marito Si Ah no Ah no Per sua moglie Eh Sì Mi sa che Se Gli massaggi Nella tetta Non funziona Amico Quindi Ehm Questo ha perso Il padre Sì ma Perdonatemi Scusate Qualcuno di voi Riesce a Tendere Oh Ok Di qua Sti Cazzo Di bassi fondi Che non si trovano mai E togliti dai coglioni Leggiorario Sono un fottuto Centurione Arrivano i brigandi Arrivano i brigandi E mo so cazzi Ma chi è quello È arrivato Ercole Ma va Fa cuore Mica c'ha i poteri De Marius Ehm Quindi Gettatelo sulla fira Oh Ok Uno Due Tre Avanti Cavallo E Che mannaccia Te Cicciccione Maledetto Oh Ho detto Mamma mia Mmm Ok Oh Ci puoi pure riprovare Morirai male Oh Dai eh Due Tre Ah No ho detto che morivi male Guarda qua Come un pesce proprio Quindi Ehm Ora che li hai eliminati Da che parte Di qua Doverai andare qui Tipo è una via È un'opzione Help Help me please Oh C'è una scala Che demente C'è una scala Perché so Così deficiente Elimina gli arcieri Babbari Ok Aio Aio Ma morì ammazzato Ok No Ah Ah Dammi qua Dove hai Arciere Come ho fatto a prendere Dall'edietro Oh Lo sai te va Allora Volemo morire Volemo morire Guarda che bravo Lui Allora Forza Mamma mia Mamma No Di qua E Voilà Yep Fantastico Ehm Fornisci supporto Alla ghiatta sul fiume Ok Sto arrivando Sto arrivando Oh In serio Pure Pure quello Con la Con la mazza Mori Uuu Ha Ha Eh no Caro mio Oh T'ha detto male Forza Uuu Mamma mia C'ho lo scudo Da damantio Certo Mi chiedo Come sia possibile Dato che Questo c'ha tipo Un'enorme Mazza De roccia Ah Non spaccarmi In braccio Mazza Guarda Qua Forza Ah No Avrei potuto Ammazzarmi In maniera Fighissima Vabbè Niente Andiamo a ghiatta E fammi la finita Scusi Lei Può farla finita Di sparare Sui miei uomini Mi servirebbero Per tornare a Roma E uccidere L'imperatore Yeah Wow Bim baby Buvia Ahahah Allora Quindi praticamente Noi abbiamo portato L'imperatore Lì dentro Gli stiamo parlando E gli stiamo dicendo Che lo uccideremo Malissimo Eh Se può fa Ok Marius Se ci muoviamo Possiamo uscire Anche in tempi brevi Da qua Marius Marius Forza Dai Non è che ci abbiamo Un'ora di video Ciccio Ce ne abbiamo 20 30 Die Quindi Ora Oh Ok Di qua Di qua Di qua Di qua Ok Vediamo di uscire Andare a prendere questa nave Vabbè In realtà lo capisco perché sta così Se siete mai stati vicino a un fuoco Tipo Che ne so Un camino Una cosa del genere Molto vicini Sapete che cazzo vuol dire Avere tipo Le vampate di calore sugli occhi Ma come nessun romano Oh Shit Ma dove sparano? Ragazzi Vi serve Potevate anche aspettare Il buon vecchio Marius Maledetti figli Androcchia Vabbè Ok Andiamo avanti E basta Va Allora Dove Cortesemente Oh Oh Ok Ehi Ehi Assopera Pensavo di prenderlo di dietro Cazzo perché mi viene sempre da dire sta frase Mamma mia Meno male che Freud è morto Sennò chissà che si sarebbe inventato Oh Tu volevi essere violentato analmente da tua nonna in realtà Ehm No Non mentire a me Sono Freud Entro Today Uno dei due Ok Va bene Manchi te Dai Forza Uno dei due Due Tre Fante cavallo Il re Mamma mia Ho visto A te Uh Buono che devo prima ammazza questo Ah Quello fa male Forza Uno Fai Cazzo L'osso Accidenti Oh Signore Non sono cose da fare davanti a un romano queste Insomma Magari voi barbari avete tutta un'altra cultura riguardo a determinati tipi di cose Ma noi romani siamo un po' Ehm Quanto siamo Ehm Già te ne sei accorto Adesso siamo in guerra Marius La gente muore Ehm Probabilmente ne hai ammazzati anche troppi tu Quindi non è che poi Oh mio dio Suona Ma che non cederanno molte facce Vedete come cedono Ah ci frulli Forza soldati Mostriamo la potenza dei nostri scudi E la lama delle nostre spade Dai Ma guarda che roba che è qua Ma come fate non passi Ma proprio a me dove fate aspettare Come faccio Vedi io mo come se spacca sta gente Uh Avanza avanza Voglio far muovere noi Ambediti Forza E vai baby Morti tutti? No un paio sono ancora vivi Non più Ah no Cazzarola Ah mo sono morti Ah animaccia vostra Che c'è dall'altra parte? Oh Nuovi potenziamenti disponibili Yeppa Accoglietegli uomini rimasti E ripiegate Ok Il resto di voi Presidi il ponte per la ritirata Io incontrerò vitelli al tribunale Ah Marius Non è per niente Ma se vede la mutanda col culo Che hai fatto sul lato B Del Del Marius Oh ok Adesso ricomparsa la mantella What? Marius Cazzarola E si che tu dovresti essere Uno di quelli Che oh noi Oh 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 Tannazione questi romani Ok abbiamo la vita al massimo Direi Wow E andiamo a rompere il culo Un po' di gente Quanto manca ancora? Quanto è a lungo questo capitolo? Eh vabbè dai Siamo a un buon 60% Buono così Buono così Buono così Buono così Dai Forza forza Trova la strada per il tribunale Ma non ti perdere il lato B Della tua connella Marius Perché Se no Potresti mettere a disagio I barbari Ci hanno tutte Delle loro manovre Per fare Tipo Robbe Robbe strane No? Tipo Robbe anali Robbe così strane Sugli spuntoni Perché Probabilmente I barbari Vi piace così Sono un po' pervertiti Sapete com'è Però pure Non è che poi fa sparire la connella Tipo davanti a un gruppo di uomini Che non vede una donna Da non si sa quanto Ritirati nel tribunale Ok Ragazzi Marius è qui Il tribunale è inaccessibile Mi sa che ti sbagli ciccio Mi avevano detto che potevo entrare Scusi Ma lei non mi sembra un giudice Semmai un giurato al massimo O uno di quelli che è sopra le vecchiette Dai Uh Nice Dite che musica E dai E mo che mica Dovemo rifare un'altra volta Tutto quanto Azz Beh Ok E questo E' andato Mo Ci abbiamo vita facile Allora Vieni qui Vieni qui Vieni qui Vieni qui Venite qui Ah Aridammi Aridammi questa Ok Perfetto così Aridammi Aridammi Uh Mamma mia Cazzo Allora 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 Devo eliminarmi Questo Forza Dai Dai Ma vedi come corre il ciccione Dai Forza Forza Uno Due Tre Ok Perfetto Perfetto Dai Non me fa Aspettate Devo eliminar Una Oh Due Tre Oh Ce Provate Che Tanto Verò Per culo Pure Voi Ambedi Ma che Credete Che sto qua Gioca Faccio Sbagliato Cazzo Ci vedo io Mugnattea Sta panza Che c'hai Vieni qua Però C'hanno Dettene Sexy Uh Uh Ah Quello fa male Ma che State A Fa Eh Eh Dai che Te lo tovo pure a te Eh Ok Vieni qui Vieni qui Vieni qui Eh Uh Via quel braccio E via la capoccia Uh Bella Mi sei piaciuto Marius Mi sei piaciuto Tanto Tanto Ce n'è un altro Su serio Eh Ok Ok Raga Fate passare a nessuno Mi raccomando Dobbiamo andare a fare Zoom zoom Sotto le copertiche Mi raccomando Che nessuno Ci disturbi O giuro Su Dio Ma soprattutto Tu Franco Eh Franco Mannaggia Te Franco Andiamo a Sotto le copertiche Ma Sotto la